Ben ritrovati in studio per la terza ed ultima parte di Hatch News, il notiziario dedicato all'Arezzo Channel e proprio di prima squadra a Maranto torniamo a parlare. Si chiuderà domani la campagna abbonamenti della società sportiva Arezzo per la stagione 2018-2019. Gli ultimi abbonamenti potranno essere sottoscritti questo pomeriggio presso gli uffici dello stadio comunale dalle 15.30 alle 19.30 e poi domattina fino alle ore 13. Negli stessi orari sarà inoltre possibile acquistare in prevendita i tagliandi per la partita Arezzo-Pontedera. Altra opzione per chi vorrà acquistare i biglietti sarà quella di farla online sul sito www.listickets.com oppure il giorno della gara presso la biglietteria tra Viale Giotto e Viale Gramsci dalle ore 17.30 in poi. A pochi giorni dal quarto derby toscano dell'Arezzo abbiamo incontrato anche un altro protagonista di questo campionato. Si tratta del giocatore amaranto Matteo Serrotti. Guardiamo insieme l'intervista. Siamo con Matteo Serrotti prima alla vigilia di una partita importante. Sono tutte importanti, lo so Matteo, però è importante perché deve confermare quello che il gruppo ha già fatto vedere nelle trasferte più che nella partita casalinga con l'Arzachena, ma comunque ha già fatto vedere una compattezza, una qualità del gioco invidiabile. Certo, mi hai detto che le partite sono tutte importanti. Dobbiamo continuare questa serie positiva e dobbiamo, secondo me, continuare a fare prestazione. Secondo me i risultati verranno dalla nostra parte. Apparentemente la squadra sembra trovarsi meglio quando ha più spazi per giocare rispetto alla situazione che si è presentata con l'Arzachena, dove la squadra avversaria giocava con dieci uomini dietro la palla sostanzialmente. Vi state allenando in questo modo e per trovare questa squadra anche in vista della partita col Ponte d'Era? Ma sai, noi ci alleniamo sempre secondo i principi che vuole il mister. È normale che quando una squadra sta dietro è più difficile, ma in generale per qualsiasi squadra. Quindi ci sono situazioni che durante la partita puoi avere più spazi, alcune trovi invece squadre che si difendano dietro. Noi sicuramente col tempo miglioreremo in tutte queste situazioni. Dal punto di vista personale hai avuto un ottimo inizio di stagione. Diciamo le tue caratteristiche sembrano essere il dinamismo e la tecnica. Sì, sicuramente essendo un centrocampista la corsa è una mia caratteristica fondamentale. Sì, individualmente credo che tutta la squadra ha fatto un grande inizio di campionato. Secondo me ancora le qualità di questa squadra veramente devono venire fuori. Un obiettivo personale per questa stagione? Mio? No, gli obiettivi sono sempre di squadra, assolutamente. Le cose si fanno tutte insieme. Sarà un fine settimana particolarmente intenso, quello che si aprirà domani anche per il settore giovanile a Maranto e per le formazioni dell'Arezzo Calcio Femminile. Il weekend partirà domani alle ore 15 con la gara che vedrà impegnata la Berretti di Mister Longo sul campo degli Arancioni della Pistoiese a Pistoia in località Ombrone. Grande carrellata di gare in programma per domenica 14 ottobre. Alle ore 14.30 l'Under 17 di Dante Gioacchini disputerà infatti la quinta giornata di campionato sul campo della Carrarese. Sempre la Carrarese sarà l'avversario ufficiale della formazione Under 15 di Massimiliano Bernardini che giocherà in trasferta sul campo di Fossone alle ore 12. Al via anche il campionato degli Under 14 a Maranto che esordiranno nella nuova stagione calcistica domenica mattina alle ore 11 tra le mura amiche del comunale di Quarata contro i pari d'età dell'Empoli. Terza giornata invece per la Under 12 di Mister Bove che dopo una sconfitta ed un pareggio partirà domenica mattina alla volta di strada per disputare alle 10.45 il match esterno contro la squadra B della Casentino Academy. Conto alla rovescia anche per le formazioni dell'Arezzo in rosa la prima squadra di Mister Lorenzini esordirà infatti nel nuovo campionato nazionale di serie B a Girone Unico domenica 14 ottobre alle ore 15. La prima giornata riserverà a Capitan Teci e Compagni un'impegnativa trasferta sul campo delle Milan Ladies. Al via poi anche la stagione del settore giovanile e femminile con le giovanissime a Maranto che domenica esordiranno a Prato nel campionato regionale Under 15 contro le Biancorosse della Florenzia. Ufficializzato soltanto lo scorso martedì il calendario del campionato nazionale primavera riservato alle società di serie A e di serie B vedrà invece le ragazze di Mister Pelliccione esordire in casa tra le muramiche dei campi Lorentini contro le coetanee dell'Empoli Ladies. Si terrà questa sera alle ore 20 presso Villa Severi la cerimonia di consegna delle fasce da capitano organizzata dal comitato Orgoglio Amaranto in collaborazione con la società sportiva Arezzo e lo sponsor tecnico Ioma. Senso di appartenenza, attaccamento alla maglia e capacità di dare un esempio positivo saranno i valori che animeranno la serata. Prima della cerimonia di consegna è previsto un ricco buffet per tutti i partecipanti al costo di 5 euro con musica e firmati. La scaletta vedrà poi il saluto del presidente Marco Amatucce, la consegna di un riconoscimento anche a Francesco Gailli, il tifoso che ha appunto disegnato il bozzetto risultato vincitore e più apprezzato dai tifosi Amaranto. Successivamente saranno poi chiamati sul palco i capitani delle giovanili Amaranto o delle giovanili della prima squadra del femminile per chiudere poi con Nello Cutolo che riceverà la fascia da portare al braccio in tutte le prossime partite amichevoli e ufficiali della stagione. Le fasce da capitano si ricorda che saranno anche in vendita ad offerta libera con un'offerta minima di 5 euro. Orgoio Amaranto infatti allestirà il consueto stand per il tesseramento e la vendita dei gadget tra cui appunto anche le fasce da capitano. Termina qui questa settimana di AC News, io vi ricordo l'appuntamento di stasera alle 19.50 con Amaranto World, il programma condotto dal nostro direttore, il direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci, replica anche domattina alle 7. AC News torna lunedì sempre alle ore 13.20. Buon fine settimana a tutti voi e grazie per averci seguito.